Ci troviamo davanti a questo nuovo accessorio che Gardesa ha creato per le porte meccaniche e per tutte le porte meccaniche che si chiama Sentinel. Sentinel è un accessorio che non si vede, è trasparente. L'interno e l'esterno della porta rimangono inalterati scegliendo quindi la porta che più aggrada al cliente. Sentinel è trasparente e rende la porta meccanica, la fa diventare elettronica contro i tentativi di effrazione che un ladro compie sulla porta blindata. Ovviamente il ladro interviene dal lato esterno della porta per forzarla in modo da entrare. Solitamente il primo tentativo di attacco diventa il cilindro di sicurezza. Quindi il ladro si troverà nelle condizioni di estrarre questo particolare in modo da entrare nella porta. Sentinel quando questo particolare si stacca di un millimetro dalla porta l'allarme entra in funzione. Sentinel interviene contro i tentativi con i piti di porco. Sentinel protegge anche contro la foratura di tutte le parti sensibili della porta. Come si attiva Sentinel? Semplicemente utilizzando la porta come facciamo tutti i giorni. Quindi inserendo la chiave, chiudendo la porta completamente, sentirò questo beep che mi dà conferma che il sistema è attivo. Quando rientrerò a casa, ruoterò la chiave per aprire, sentirò un beep di disattivazione. Andiamo a vedere ora il lato interno. Quando io rientro, soprattutto nei momenti notturni, che c'è il buio che mi impedisce di vedere, è stata applicata una luce di cortesia che permette di andare a posizionare gli interruttori dell'energia elettrica e quindi di attivare l'illuminazione. Sentinel agisce, come abbiamo detto, contro i tentativi di effrazione. Lo fa con un potente allarme sonoro che avremo modo di sentire. Dopo un preallarme avviene questo suono. Aprendo la porta, il sistema d'allarme si blocca. Questo potente suono dura 60 secondi, ma non rimane disattivo perché Sentinel è sempre pronto a riattivarsi.